Se non ti uccide il freddo, ti uccido io domani, gli hanno detto i suoi due compagni di scuola dopo averlo sequestrato, legato ad un albero pestato e minacciato con una mazza. È durato ore l'inferno patito da un diciottenne di Altavilla e Irpina ieri ad Avellino da parte di due coetanei, uno di questi di appena 17 anni, ed è incubo a baby gang anche in Irpinia. Un'assurda sequenza, avvenuta in pochi metri, tra il garage di uno dei due presunti aguzzini e l'aperta campagna. Tutto per la mancata restituzione di 25 euro, un debito non saldato che avrebbe scatenato la furia dei due giovanissimi. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio ad Avellino, dove il diciottenne di Altavilla era arrivato in compagnia di un suo amico di 17 anni. Ad aspettarli alla fermata del pullman il loro amico diciottenne che insieme al diciottenne avrebbe costretto il malcapitato a salire a bordo dell'autovettura. È iniziato così l'inferno in stile arancia meccanica. Lo hanno portato in un garage e con delle mazze di legno lo hanno colpito dopo avergli legato le mani dietro la schiena. Per zittirlo gli hanno messo in bocca un manicotto da moto, bloccandolo con del nastro adesivo per impedirgli di gridare. Dopo aver fumato uno spinello, i due hanno portato l'amico in un noccioleto e privandolo dell'orologio lo hanno legato ad un albero. Se non ti uccide il freddo, ti uccido io domani. Queste le ultime parole dette da uno di loro prima di andare via. Lo hanno lasciato lì, legato a quell'albero, ma il diciottenne fortunatamente è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto. I due sono stati denunciati per estorsione, sequestro di persona e rapina.